Ci risiamo, ecco un nuovo asteroide pronto a determinare la fine del mondo in base a quello che leggo in rete. Sarebbe un asteroide che è stato scoperto l'8 ottobre da astronomi in Ucraina a cui è stata data la denominazione di 2013 TV-135. Da queste prime osservazioni si è visto che l'asteroide ha un diametro di circa 400 metri e dovrebbe avvicinarsi molto al nostro pianeta nel 2032. Ma la probabilità di impatto con la Terra dovrebbe essere solo di 1 su 63.000. È molto importante sottolineare che tale probabilità esprime solo la nostra scarsa conoscenza sulla sua orbita perché si basa su un arco di tempo troppo breve. Quindi dovremo aspettare i prossimi mesi per sapere qualcosa in più sul 2013 TV-135.4. Probabilmente lo scenario più probabile è che una tale già bassa probabilità di impatto scenderà allo zero in un lasso di tempo di una settimana o giù di lì. Quindi le voci che si stanno diffondendo in rete descrivono un rischio che probabilmente non esisterà. E sono semplicemente, come al solito, queste voci allarmistiche che fanno notizie. Naturalmente è bene sottolineare che la possibilità che un asteroide o una cometa colpisca il nostro pianeta c'è sempre perché è accaduto nel passato e non vedo per quale motivo non dovrebbe accadere ancora. Fa parte di quei cambiamenti a cui il nostro pianeta è andato incontro e che probabilmente ha permesso anche lo sviluppo della vita così come la conosciamo. L'argomento è molto lungo e complicato ma non ho già parlato in tanti altri miei video. Mi premeva semplicemente dare questa piccola notizia su questo nuovo asteroide appena scoperto. Non facciamoci prendere già dalla paura, aspettiamo un poco prima di terrorizzarci. Grazie e alla prossima.